Sto cercando di emulare un classico pomeriggio italiano con un caffè e mi hanno detto che questa bevanda contiene tracce di caffè insieme a corina popa detta popa corina noi la conosciamo come corina popa però qui nel mondo non ismatico viene si viene chiamata il colpo ecco denise che sta preoccupandosi di avere un po di ordine l'unica che da un un po di ordine faccio un primo piano vediamo un primo piano di denise molto fotogenica molto fotomodella saluta i tuoi fans well we will show you our jewel is the new micro puzzle coin completely sold out and here is the first sample the series will be composed by five coins this is the first one and who will come to visit us at this booth we will see also the second one the review so this is our best coin so far we think so don't miss it if you find it buy at any price because it the price will only go up i can guarantee go to work ok arrivederci i have to go to walk on the waters a little bit eccoci a berlino krukko lemda corina the big boss antonello la mia barba caprina che fa rima con corina e vi prendo tutti ma cioè il braccio non è così lungo stiamo cercando qualcosa per sopravvivere alla giornata mettete un like se vi piace mettetelo però che ne abbiamo bisogno i i i i i Grazie a tutti.